Dottor Zediori, questo nuovo collegamento diretto Roma-Toronto-Toronto-Roma rappresenta una grande opportunità per la comunità italiana di Toronto che è molto nutrita? Rappresenta una grande opportunità credo per tutti, nel senso dei canadesi in generale e degli italiani in generale. Certamente abbiamo un vantaggio comparativo rispetto ad altre comunità, abbiamo una fortissima comunità italo-canadese e questo facilita un po' il compito perché significa una cosa, l'Italia non è certamente una meta lontana o sconosciuta, qui è molto ben conosciuta e anche molto desiderata. Quindi avere una connessione in più non potrà che rafforzare le relazioni tra i due paesi, in particolare tra lontano e l'Italia e tra le due città. Ci aspettiamo anche che valga nel senso opposto, cioè turisti canadesi o italo-canadesi che vanno a Roma e in Italia e turisti italiani che vengono a Toronto per vedere che cosa rappresenta oggi questo paese e in particolare questa città. Quindi come si dice in inglese win-win e avremo anche tante possibilità in più per maggiori affari, uomini d'affari che si spostano, scambi culturali, artisti che vanno e che vengono. Quindi è veramente un'opportunità in più che rappresenta uno sviluppo importantissimo delle relazioni bilaterali tra i due paesi.